Monza, una città da serie A, con le pulsante che non spetterà di tifare, di incoraggiare, di sognare. Monza, una città da serie A. Monza, una città da serie A, riprendiamo in questa stagione chiaramente all'indomani di una grande giornata per quanto riguarda Monza, ovvero il Gran Premio di Formula 1, che se vogliamo è l'evento più importante per quanto riguarda il nostro territorio sicuramente, ma probabilmente anche a livello nazionale, che tra l'altro ieri ci ha regalato tantissime emozioni con la grande vittoria, forse un po' inaspettata, di Charles Leclerc. Lo chiedo subito ai nostri ospiti, buonasera e bentrovato ad Andrea Cremonesi, ACI Sport, ufficio stampa. Ciao Andrea, bentrovato. Ti ha sorpreso un po' questa grande vittoria di Charles o no? Dimmi la verità. Sì, certamente, per come si era messa la situazione dopo le qualifiche, sembrava che la McLaren dovesse ripetere l'esploit dell'Olanda. La McLaren è la squadra che in questo momento è in grande ascesa, quindi è stata una vittoria insperata, ma fortunatamente è arrivata ed è stata sicuramente una grande gioia per tutto il pubblico. Una vittoria, Cristiano Mandelli, Monza News, bentrovato, nata dal Muretto, capolavoro di Leclerc, ma il Muretto non ha fatto qualcosa di straordinario, no Cristiano, a livello di strategia? Sì, buonasera a tutti. Effettivamente Leclerc ci ha messo molto del suo, probabilmente anche l'asfalto del circuito, ma ne parleremo penso dopo del nuovo asfalto del circuito. Però, devo dire, Leclerc è stato un maestro per 38 giri con quelle gomme e non le avevano mai testate durante le prove libere. È stato veramente un qualcosa di incredibile che ha stupito tutti, nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Poi, per quanto riguarda la strategia, idem, perché ho visto che anche durante la gara Leclerc aveva chiesto, ad inizio quando hanno fatto il primo pit, per il discorso del se era giusto la tempistica o altro, visto che comunque Norris l'ha già fatto su pit stop e quindi hanno fatto poi gara su Norris da questo punto di vista. Ma quindi è una strategia che non era stata pianificata a tavolino o è nata proprio durante la gara, secondo voi, Andrea? Allora, prima del Gran Premio... Perché non si è capito molto poi, hanno cercato un po' di nascondere le carte in tavolo anche dopo la gara, Andrea? Sì, però esistono diversi piani, a ogni Gran Premio le squadre, in base ai dati che raccogliono nelle prove libere e ancora il sabato, fanno diversi piani. Quindi c'era anche questo tra i piani possibili. A un certo punto hanno deciso di giochiamocela, perché grazie al suo sorpasso, perché il capolavoro è stato il sorpasso su Piastri al primo giro, alla seconda variante, e lì si è aperto uno scenario e una possibilità. A quel punto ci hanno provato, con le clerche che aveva appunto dei dubbi, perché via radio ha detto ma siamo sicuri, abbiamo fatto bene a fermarci, abbiamo subito l'undercut, sapevamo... Quindi aveva, come tutti i piloti, quando corrono poi, hanno... vivono, diciamo, di incertezze... Qualche dubbio, certo. Qualche dubbio. E invece ha funzionato, sono stati gli altri, quelli che dovevano vincere, che non hanno creduto di poter arrivare fino in fondo, e forse anche i piloti stessi non sono stati in grado di gestire le gomme, come è stato in grado in questo caso di farlo Charles. La Ferrari domina, il Monza frena. Nella seconda parte, dalle 21, parleremo con Federico Ferrari e con i suoi ospiti anche del pareggio ieri sera del Monza contro la Fiorentina. Cristiano Mandelli, adesso la nostra regia ci propone la classifica dei piloti. Ma alla luce di questa grande vittoria di Leclerc, potrebbero cambiare le dinamiche per quanto riguarda la corsa al Mondiale dei Piloti e al Mondiale dei Costruttori, Cristiano? Diciamo che, secondo me, in questo momento non si può ancora definire se Leclerc possa puntare al titolo quest'anno. Magari la Ferrari, dal punto di vista costruttori, qualche chance ce la può avere, perché comunque la distanza non è tanta rispetto a quella che la classifica. 203 Verstappen, Norris 241, Leclerc 217. Sì, infatti, diciamo che quel Juve dove Stappen è ancora super favorito, nonostante abbia dei problemi grossissimi. Grossissimi, perché non vince da 6-8 gare, adesso non mi ricordo più di preciso quante sono le gare dove non vince lui 6 gare. 6 gare. Quinto posto, Andrea Cremonesi, vediamo Carlos Sainz, che ieri ha fatto il lavoro oscuro, che deve fare solitamente una seconda guida, ha cercato di proteggere anche il compagno. Esatto, ha ricordato un po' Sergio Perez ad Abu Dhabi 2021 con Hamilton. Ha fatto un ottimo lavoro perché ha quel giro e mezzo, quei due giri dove Piastri non è riuscito a scavare il carro, ha consentito a Leclerc di tenere il vantaggio. Per quanto riguarda invece il mondiale, io credo che sia una lotta a due, ormai ristretta. Tra i primi due, quindi, per Stappen e Norris. Verstappen-Norris, mentre nel costruttore è molto più aperto la Ferrari lì sì, che ha meno 37. Adesso la vediamo, anche la classifica. Può vincere, ma qua credo che sia, e qui è il grande errore, secondo me, della McLaren. La McLaren alla vigilia della gara, viste le difficoltà persistenti di Verstappen, che partiva in quarta fila col settimo tempo, io se fosse stato Zabrauno o Andrea Stella avrei detto, cari ragazzi, alla prima curva deve arrivare primo Norris e questo gran premio lo deve vincere Norris, perché mettiamo pressione addosso alla Red Bull e a Verstappen e rischiano di sbagliare ancora. Hanno sbagliato anche durante il pit stop, avete visto. Poi magari lì è più un guasto che un errore umano, però hanno buttato al vento veramente una grande occasione. Nella storia della Formula 1 è successo tante volte, no Cristiano? È incredibile però che Norris ogni volta che parte in pole position non fa mai il primo giro davanti a tutti. È una cosa incredibile, ma non è mai successo. È un po' il suo handicap la partita. Io volevo dire... Però ieri era scattato correttamente, cioè nel senso aveva mantenuto la posizione alla prima variante, il suo compagno di squadra è andato ad attaccare la seconda. Io sono convinto che Norris non si aspettasse l'attacco alla variante della Rodgers. Certo, ma anch'io sono convinto che sia stato colto solo di sorpresa. Sì, significa che non c'è stata probabilmente una strategia, ma la scuderia ha lasciato un po' libertà ad entrambi. Sapete che cosa ha fregato Norris, se posso? Prego, prego. Secondo me l'errore di Russell alla prima variante. Se Russell fosse rimasto lì, probabilmente Piastri si sarebbe dovuto guardare alle spalle dalla Mercedes e forse non avrebbe attaccato. Parliamo di sedi, ma per cui non facciamo la storia. Però quello sicuramente ha influenzato poi la condotta di gara di Piastri. Io però sono convinto che la Ferrari sia la favorita in questo momento. Non tanto per prestazioni, ma perché ha due piloti che lavorano in sintonia. La Red Bull purtroppo è un solo pilota, alla fine dei conti, e queste diatribe tra i McLaren o le mettono in chiaro adesso della prossima gara, ma secondo me non sarà così. Quindi vedo la Ferrari favorita non tanto per serie di vittorie che potrà fare eventualmente, ma è quella che per me potrà avere più costanza nell'ottenere punti e gli stacchi sono limitati in questo momento. Io invece sono meno ottimista per un discorso tecnico. La Ferrari soffre, almeno ha sofferto finora, poi magari con le novità introdotte, soffre i curvoni veloci. Monza non è da curvoni veloci, Bacu non lo è, per cui anche a Bacu potrebbero fare molto bene, Singapore e Ilema, ma poi arriva Suzuka, arriverà Interlagos. Che è tutto curva praticamente. Soprattutto sono curve che si fanno in pieno, sono curve veloci, dove loro appuntano questa difficoltà di stabilità della macchina. Magari con le novità introdotte riescono a ridurre il gap dei migliori, altrimenti li vedo davanti la McLaren. Secondo te arriveranno altri aggiornamenti ancora o Ferrari dopo quelli di Monza non avrà più step di aggiornamento? Io non sono a conoscenza, ma non frequento più, come ero ai tempi di Gazzetta, giorno per giorno, per cui non ho il polso della situazione. Io credo che... E magari arrivano un po' meno notizie rispetto all'epoca, no? All'epoca magari... no? Sì, anche questo è vero, anche questo è vero. Però io credo che qualche sviluppo ancora... Mancano ancora tante gare al campionato. Siamo a metà del guado, no? Siamo un po' di più, perché mancano otto gare, se non vado errato. Quindi insomma, su 24, praticamente un terzo del campionato. Quindi io credo che tutte le squadre, dalla Red Bull che si sente minacciata alla McLaren, che ci crede, alla stessa Ferrari, la Mercedes, manderanno ancora in pista qualcosa. Volevo chiederti, Cristiano, prima di andare in pubblicità, la lotta tra Norris e Piastri, secondo te potrebbero uscire indeboliti da questo scontro un po' fratricida in McLaren? È quello che dicevo prima, penso di sì, perché o interviene veramente la squadra, ma non sembra intenzionata in questo momento, dalle dichiarazioni anche di Zac Brown, sembra che comunque in questo momento abbiano ancora libertà d'azione e che quindi non venga data una priorità a Norris. Quindi penso che il limite della McLaren in questo momento sia quello, perché hanno la vettura migliore, piloti che comunque sono molto forti e Piastri sta crescendo veramente in maniera notevole nell'ultimo periodo, quindi secondo me l'unico limite della McLaren è il fatto di avere due piloti senza una gerarchia in questo momento. Dopo parleremo anche del nuovo pilota delle Ferrari, che è Lewis Hamilton, lei dice da un weekend così così, ma con i nostri ospiti cercheremo di capire anche le prospettive in Ferrari di Lewis Hamilton. Pubblicità, poi ricordatevi che alle 21 torneremo a parlare anche di Calcio Monza con il pareggio dei Brianzoli a Firenze. Pubblicità e poi torniamo qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Andros dal greco uomo è un punto di riferimento per l'abbigliamento maschile non solo nel cuore di Monza. Ci troviamo al primo piano dedicato all'abbigliamento casual e al quotidiano. La nostra mission è proporre brand che possano soddisfare le esigenze della clientela nel segno della qualità, sostenibilità e attualità sono le chiavi della nostra offerta. Sono Nicolette Canali, vi aspetto da Andros in via Italia 17 a Monza. Sono il dottore Emanuele Fiocca, odontoiatra del centro dentistico Polymedical Laser che si trova in centro Monza in via Giuseppe Ferrari 7. Il nostro obiettivo è dare maggior comfort possibile al paziente e per questo la struttura è dotata al suo interno di un laboratorio odontotecnico che permette attraverso la cooperazione tra il team odontotecnico e l'equip odontoiatrica chirurgica di fornire al paziente una protesi fissa subito poche ore dopo l'intervento permettendo così al paziente di tornare a casa sempre con una protesi e mai senza denti così da dare un maggior comfort post-operatorio possibile. Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattarvi al nostro numero. Rieccoci, allora abbiamo parlato della grande vittoria di Leclerc io volevo andare su Hamilton ragazzi ma sei già stato stabilito in Ferrari chi sarà la prima guida Andrea e chi sarà la seconda del prossimo anno? No, questo no assolutamente, impossibile anche perché. Quindi faranno come McLaren, daranno libertà ai piloti? Allora, questo è un bel tema che stai sollevando perché ai tempi di Schumacher ovviamente c'era, anche se non era scritto o quantomeno non veniva pubblicizzato o reso noto c'era Schumacher ovviamente, poi c'erano Barrichello, Irvine prima, poi Barrichello e alla fine anche Massa e qui però arriva un sette volte campione del mondo accanto a quello che comunque resta il pilota di riferimento per il futuro della Ferrari e quindi poi bisognerà vedere come andrà la stagione e sarà un bel, veramente, sarà interessantissimo Sarà interessantissimo anche vedere come si comporteranno i tifosi perché ero presente alla fanzone l'altro giorno e diciamo, aveva l'apoteosi quando c'erano i piloti della Ferrari che erano presenti però, a dire la verità, Lewis Hamilton è stato accolto veramente anche lui con il tripudio quindi dal mio punto di vista sicuramente una parte di pubblico sarà orientata anche verso Hamilton non me l'aspettavo a inizio dell'anno invece, vista l'esperienza dell'altro giorno, devo dire che sarà una bella lotta dal punto di vista del sostegno dei tifosi secondo me la Ferrari dopo alcune gare lasciando liberi comunque i piloti di gareggiare deciderà poi le gerarchie ma penso dopo sette, otto gare penso dal mio punto di vista non penso facciano come la McLaren di lasciare carta bianca fino a oltranza Hai toccato il tema Monza all'iro di circuito di pubblico Andrea, lo spettacolo si è visto adesso vediamo anche qualche foto che ci hanno gentilmente concesso Enrico Ghidini, Maurizio Rigato Monza è sempre uno spettacolo da un punto di vista del pubblico tra l'altro c'è un post da parte di Mercedes che ha esaltato proprio al dia della vittoria di Leclerc proprio il pubblico di Monza credo che in nessun autodromo si possa vivere quello che si è vissuto ieri nel capologo Brian Solo Sì, prima ancora che mandassero questo messaggio avevo avuto modo di parlare con i colleghi di Mercedes che ovviamente conosco da tanti anni e ho detto guardate so che per voi oggi è andata male ma per noi è stata una cosa emozionale e poi sono usciti appunto con questo bellissimo post credo che qualunque team in Formula 1 ieri abbia vissuto comunque una giornata perché sentire il pubblico, vederlo sotto la tribuna, cantare tutti insieme l'inno nazionale ha fatto veramente venire i brividi io ho avuto il privilegio di assistere a pochi passi dal podio questo avvenimento ed ero insieme ad alcuni uomini inglesi di Formula 1 e devo dire che sono rimasti veramente stupiti, piacevolmente stupiti dal trasporto del pubblico davvero non potevamo riaprire perché ricordiamoci che Monza il Gran Premio è stata la prima gara dopo otto mesi di inattività da quando a gennaio sono partiti i lavori che si sono conclusi a luglio e la prima gara siamo partiti veramente col botto con il record di pubblico e con una vittoria della Ferrari 335 mila persone in tutto il fine settimana, qual è il tuo bilancio Cristiano Mandelli? ma ottimo perché la presenza del pubblico delle grandi occasioni fortunatamente, probabilmente la festa alla fine sotto il podio era anche quasi inaspettata viste le prove perché inaspettata? perché nessuno si aspettava probabilmente una Ferrari così competitiva dopo le qualifiche perché le due McLaren partivano già in prima fila si sapeva e si vedeva che comunque la McLaren aveva un qualcosina in più e probabilmente anche questo è servito a fare esplodere ancora di più il pubblico però mi aggiungo a quello che ha detto Andrea perché secondo me appunto visto che siamo in vista di rinnovo con la Formula 1 del Monza nel 2025 quindi l'anno prossimo vedrà l'ultimo Gran Premio prima del rinnovo mi sembra che non ci siano dubbi su quale possa essere l'interesse che non solo i tifosi ma il mondo della Formula 1 debba avere per Monza perché a parte la storicità cioè al di là dell'aspetto economico contano anche le immagini che abbiamo visto ma Monza è unica lo diceva comunque anche domenicali quando è stata fatta la presentazione del Gran Premio perché onestamente ha messo anche lui c'è l'unicità di Monza ovvio non può rimanere il circuito che adesso perché ormai non è più la Formula 1 di vent'anni fa non ha tutta quella ospitalità che è necessaria in questo mondo in questo momento però secondo me anche Formula 1 non dico aspetta fino all'ultimo momento quello sicuramente però comunque ha un occhio di riguardo su Monza come può essere anche per Monte Carlo comunque pochissimi circuiti che possono avere questa storicità ma anche questa atmosfera, questo clima perché è stata una cosa incredibile veramente ha colpito tutti e tutti i tifosi di qualunque squadra comunque veramente vedevi sotto il podio non solo c'erano le maniere Ferrari vedevi il rosso ma in realtà c'erano tifosi di anche altre squadre altri piloti e tutti lì a divertirsi quindi bellissimo anche se insomma il rosso dominava rispetto ad altri circuiti dove magari c'è tanto arancione in onore di Max Verstappen ha parlato giustamente Cristiano Mandelli dei lavori che dovranno essere fatti tanti sono stati fatti in questi sei mesi anzi complimenti perché sono stati fatti a tempo di record adesso in agenda cosa c'è Andrea? Qual è la priorità per quanto riguarda i lavori? Dunque questa è stata la prima tranche di lavori costati 21 milioni ne abbiamo sicuramente una seconda che è quella della copertura dell'area hospitality con una struttura fissa cioè l'ultimo piano praticamente di quello che noi definiamo il main building che è quello dei box il rinnovo di alcune tribune che devono diventare autosufficienti dal punto di vista energetico e comprendere anche i servizi cioè dovevano poter ospitare degli eventi l'idea che esprime molto spesso il presidente di ACI Angelo Stichi Damiani è quella che davanti a queste tribune si possano per esempio tenere dei concerti cioè che l'autodromo possa essere utilizzata anche solo diciamo così a sezioni proprio per fare degli eventi per fare delle serate quindi vivere veramente tutto l'anno completamente integrato integrato nel territorio e la grande speranza poi di completare questi lavori nel giro di tre anni di dare un'immagine un'immagine positiva forse l'aspetto che ai colleghi della stampa piacerà un po' meno è che l'attuale sala stampa come ha annunciato il presidente anche in occasione di un evento di confartigianato diventerà anche quella area hospitality perché ci aiuta ovviamente a ridurre un po' quello che va pagato e i giornalisti dove rimandiamo? i giornalisti c'è un container no non ci sarà il container come a Imola siccome l'ho già visto da altre parti queste situazioni perché organizzando come Automobile Club d'Italia anche quello di Imola ovviamente sappiamo siamo coinvolti direttamente nella gestione di quella sala stampa dove c'erano una volta i vecchi uffici quindi su quella palazzina che sorge alle spalle della lounge di Automobile Club Milano lì dovrebbe nascere lì nascerà speriamo in tempi anche rapidi una nuova palazzina che ospiterà la sala stampa quindi siamo non più non diamo più sulla pista ma diamo comunque sul paddock siamo attaccati al paddock ricordo che ci sono altri autodromi che hanno una situazione del genere il primo che mi viene in mente è Bacu dove si esce dal paddock per andare a lavorare in sala stampa e si entra in un hotel a poche decine di metri io da stigo frequentatore della sala stampa quanti passi hai fatto ieri? benedetto eri stanchissimo hai controllato i passi? ho fatto 65 km in 4 giorni ho guardato oggi l'applicazione 65 km in 4 giorni stadi ti vedo più in forma del solito perché non ti dico cosa ha fatto durante le vacanze prego Cristiano vuol dire aggiungere? stavo dicendo che l'assiduo frequentatore dell'autodromo di Monza questa sostituzione della sala stampa mi lascia un po' di stucco nel senso che comunque ti dispiace perché vivi la corsa in maniera diversa rispetto a quello che può essere fatto esternamente però devo dire anche che si comprendono quelle che sono le esigenze che la Formula 1 di adesso chiede e inoltre le tecnologie sono anche cambiate quindi dal mio punto di vista è una sala stampa innovativa dove ci possono essere dei sistemi multimediali che ti permettono di avere determinate informazioni di seguire la gara in un certo modo sicuramente possono sopperire a questa sostituzione quindi mi spiace che venga eventualmente tolta ma devo dire la verità che comunque ci sono gli strumenti e poi è per un buon fine da questo punto di vista sì anche in Bahrain e Abu Dhabi mi sono venuti in mente altri posti dove la sala stampa non guarda più sul tracciato non hai più e Monza io ahimè ho l'età per ricordarmelo quando ho iniziato a lavorare io Monza aveva ancora la sala stampa esattamente dove vogliamo riportarla adesso cioè nel dialetto dove c'era il villaggio da questo punto ritorno al passato ma ovviamente proiettato nel futuro non ci possiamo fermare c'era il fax allora c'era il fax quando parliamo il telecomunica sì è vero il telecomunica il telecomunica il telecomunica no quindi alla luce di tutti questi lavori Andrea diamo per scontato il rinnovo del contratto o secondo te sarà comunque una trattativa ancora lunga no io mi posso no non mi posso non posso ma mi voglio sbilanciare una sia sensazione personale che a breve spero che sia il mio breve sia veramente breve cioè a questione di settimane e non di mesi avremo un rinnovo sia per due autodromi storici Monza e Monte Carlo ah ok quindi insomma ci stai dando una primizia un'anticipazione qui aspettando Monza una città da serie A Cristiano Mandelli anche perché da quello che si vede ultimamente sì il problema economico c'è sempre per quanto riguarda i rinnovi ma la priorità in questo momento è avere le autorizzazioni per procedere con tutti i progetti di rinnovamento dell'autodromo quindi la priorità del presidente di ACI in questo momento di Angelo Sticchi Damiani è riuscire ad avere l'ok e sta chiedendo l'aiuto a tutti quindi a tutte le parti a tutte le autorità che stanno seguendo diciamo le autorizzazioni perché la priorità in questo momento è fare questi lavori perché comunque tra un anno il contratto scade quindi fondamentalmente da quello che diceva Domenicali dice i lavori che avete fatto fino adesso a Monza sono stati veramente belli spettacolari è tutto un altro autodromo però è vero ha detto non mi sembra anche di venire a Monza ha fatto la battuta quando è arrivato in conferenza però devo dire che anche lui ha detto però adesso questo è il primo step mi raccomando fate anche i prossimi e quello devi dire diciamo che la strada è stata tracciata diciamo che ci sta mettendo alla prova in questo modo ecco deve metterci alla prova abbiamo dimostrato il primo esame l'abbiamo superato siamo un po' come alla maturità abbiamo fatto bene gli iscritti adesso dobbiamo passare se vogliamo gli orari va bene intanto pensate visto che abbiamo ancora qualche minuto a nostra disposizione alla foto che vi porterete dentro di questo gran premio la foto simbolo magari ne scegliete una diversa scendiamo un attimo di categoria Cristiano Mandelli perché nel weekend c'è stata anche la vittoria del Piacentino Fornaroli in Formula 3 prevedi un futuro rosio per questo ragazzo si parla dice un gran bene sì sì ma la nuova diciamo la nuova generazione di piloti perché l'abbiamo visto sia con Chimi Antonelli che vedo in questo momento nell'immagine che lui invece ha fatto il debutto nelle prove libere del venerdì così 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 non gli è andata bene non gli è andata molto bene però diciamo che non è che un errore che ha inficiato quello che è il suo proseguo della carriera tant'è vero che proprio sabato è stato poi annunciato come sostituto di Lewis Hamilton per la prossima stagione quindi comunque insomma non diciamo poco ha compiuto 18 anni domenica scorsa quindi non questa ma la precedente quindi onestamente sembra e sono convinto che abbia un futuro molto rosio per quanto riguarda Fornaroli penso che adesso il prossimo step suo sia la Formula 2 dove andrà penso anche comunque Gabriele Vinica il suo diretto avversario quest'anno per il titolo devo dire che Fornaroli ha fatto una cosa anche incredibile nell'ultimo giro della seconda quando si stava giocando il titolo con Minì proprio all'ultima curva dell'ultimo giro ha fatto un sorpasso etico secondo me che non si vedeva da anni con una staccata incredibile in parabolica riuscendo ad arrivare in quel momento terzo sotto la bandiera scacchi e riuscendo quindi a mantenere un minimo margine su Minì per il titolo poi diciamo che Minì poi è stato squalificato quindi avrebbe comunque vinto ma in realtà in quel momento la gara era al limite e se Fornaroli fosse arrivato quarto avrebbe perso il titolo quindi incredibile in 30 secondi hai parlato di un autodromo aperto 365 giorni all'anno quali saranno allora a questo punto i prossimi appuntamenti in autodromo a Monza allora a breve adesso ci saranno già alcune l'autodromo è già vivo in questo momento anche in settimana comunque tra test o iniziative anche legate all'ambito sportivo è già attivo i prossimi appuntamenti importanti saranno il weekend del 22 di settembre con il GTVC il GTI il campionato mondiale GTI dove ci sarà ospite anche ospite gareggia anche Valentino Rossi in questo caso quindi secondo me ci sarà veramente un bagno di folla anche qua a livello di pubblico poi ci saranno due AC Racing Weekend uno all'inizio di ottobre e uno alla fine di ottobre e anche qui ci sarà GTI Formula 3 Formula 4 e altre categorie e nel mezzo ci sarà a metà di ottobre anche il GT Open insomma tanti appuntamenti Andrea Cremonese siamo in chiusura la foto simbolo di questo weekend beh chiaramente la grande folla sotto il podio mi sembra quasi scontato sì poi oggi tutti i giornali non hanno avuto molto fantasia hanno messo tutti gli selfie di Leclerc Cristiano sei d'accordo? no nel senso sì sono d'accordo con lui ma secondo me ancora più emozionante vedere le frecce tricolori che non c'erano Leclerc e Vasseur che cantano l'inno nazionale eh sì è vero è vero che non era poi che dà un sinonimo di sintonia con quello se posso con un'ultima battuta in dieci secondi abbiamo già apriremo domani mattina la prevendita per il 2025 proprio con Antonelli Fornaroli e Minich che sono i testimonial della nostra campagna grazie a Andrea Cremonese Cristiano Mandelli tutti gli aggiornamenti su Monza News perché Cristiano Mandelli è il referente di Monza News per quanto riguarda i motori ora pubblicità e poi parte Monza una città da Serie A con l'analisi del pareggio del Monza a Firenze pubblicità Termotecnica Monzese Riscaldamento Condizionamento Assistenza 24 ore su 24 365 giorni l'anno Porca vacca quanto lavoriamo Fala in man Forza pagai Vuoi assaporare la storia di Monza a due passi dal centro storico? Vieni al ristorante Albergo Il Fantello il più antico della città risotto alla monzese pizzoccheri valtellinesi cotoletta orecchio d'elefante casseola e tanti piatti della tradizione brianzola e lombarda chiama il numero in sovrimpressione per prenotare Sono il dottore Emanuele Fiocca odontoiatra del centro dentistico Polimedical Laser che si trova in centro Monza in via Giuseppe Ferrari 7 La ipersensività dentinale è una condizione che affetta il 52% della popolazione adulta e tra 72 e il 98% dei pazienti parodontali Si manifesta come un dolore un fastidio breve acuto nel momento in cui c'è uno stimolo termico come può essere una bevanda fredda o una bevanda calda Qui al Polimedical Laser attraverso l'utilizzo del laser uno strumento all'avanguardia e di ultima generazione riduciamo la ipersensività dentinale permettendo così ai pazienti di tornare alla quotidianità Per maggiori informazioni vi invitiamo a contattare il numero di telefono Andros dal greco uomo è un punto di riferimento per l'abbigliamento maschile non solo nel cuore di Monza Siamo a secondo piano dedicato alla cerimonia donna L'attenzione per i particolari le linee esclusive e le rifiniture sono il valore aggiunto per la donna che desidera premiare il proprio senso estetico quindi la bellezza che la rende unica Sono Nicolette Canali vi aspetto da Andros in Via Italia 17 a Monza Grazie a tutti